ci troviamo al comunale di Casalbordino ecco vedete che manto erboso sintetico rifatto da pochi mesi prima c'era sabbia terriccio e adesso un tappeto verde di ultima generazione si gioca un amichevole tra la Virtus Cassè Frentano che gioca con la maglia rosa nero e il Casalbordino che gioca con la classica giallorossa in quanto sono i loro colori sociali anche noi abbiamo la giallorossa come colori sociali però stavolta siamo venuti noi con una divisa neutra cioè pensando che i ragazzi del Casalbordino indossavano la loro maglia giallorossa invece è stato tutto il contrario anche loro erano venuti con la maglia neutra e dopo lo sono andati a cambiare 0 a 0 il risultato ecco qua abbiamo Andrea 0 a 0 il risultato parziale in questa fase del primo tempo allora le prossime riprese qua dal comunale di Casalbordino